ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi video unboxing ragazzi unboxing vado a spacchettare un po di roba ecco qua primo pacco ragazzi se vediamo ho preso un po di roba diciamo che mi servirà per i prossimi viaggi e soprattutto prossimi campeggi e moto tendate e quello che è quindi adesso apriamo ok questo non mi ricordo cos'è e apriamo per scoprire cos'è ragazzi ok ok qua ragazzi abbiamo un po di moschettoni moschettoni ho in mente una cosa abbastanza interessante e ho preso una decina di moschettoni su amazon diciamo che prezzo conveniente moschettoni così semplici vi farò vedere per cosa li utilizzo molto presto ok 10 moschettoni così moschettoncini non è roba professional è tutto quindi adesso ragazzi secondo pacco eccolo qua secondo pacco ragazzi andiamo ad aprirlo ok apriamo brutalmente qua allora io gli avevo già presi una roba manuale però ho voluto prendere un'altra cosa che mi consentirà di usare questi sacchetti questi qua sono dei sacchetti per fare sottovuoto per mettere diciamo i vestiti in sottovuoto perché ho preso questo perché adesso vedrete subito e questi ragazzi sono i sacchetti sottovuoto che però hanno la valvolina per appunto una pompetta portatile e per questo ragazzi appunto ho preso questa pompettina portatile elettrica non so se si vede ok pompettina elettrica molto piccolina devo dire che l'ho vista su un canale di un collega e ho voluto prenderlo anch'io davvero davvero piccolissimo ragazzi molto molto carina in teoria qua abbiamo tutte le varie i vari accessori per anche poter gonfiare i materassini e tutto quindi qua vedete abbiamo i vari attacchi piccolo grande ok come fa ad andare qua c'è il bottone ok quindi in teoria se io attacco qua la pompettina vediamo dovrebbe aspirare perché da una parte aspira quindi qua e adesso vedi 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 e adesso vabbè non è chiuso bene però ok da una parte aspira e dall'altra soffia quindi in teoria io dovrei mettere questo di qua così ok da una aspira e dall'altra soffia ok guarda che spettacolo ok quindi da una aspira e dall'altra soffia da già che ci siamo facciamo la prova materassino già che ci siamo facciamo sta prova prova materassino vediamo se gonfia ok considerando il fatto che funziona ho visto che il materassino si è gonfiato in due o tre minuti quindi ottimo lo testeremo sul campo molto presto comunque devo ringraziare Ciccio Benza perché ho visto sul suo canale questo questo mini compressore mini pompettina ragazzi la proveremo sul campo comunque qua abbiamo visto che funziona e terza cosa che ho preso ragazzi terza cosa terza anzi quarta quarta sì quarta cosa e non meno importante ho preso questo telone telone un telone occhellato ok ho in mente una cosa ma vedrete comunque iscrivendovi al canale lo ripiego e lo ripiego e ragazzi se volete vedere questo telone per cosa lo utilizzerò iscrivetevi al canale mettete un bel mi piace e noi ragazzi ci vediamo alla prossima e niente adesso sistemo il disastro che ho fatto per fare questo unboxing e noi ci vediamo ragazzi la prossima sono cose che mi serviranno queste ragazzi per i prossimi campeggi ho in mente ragazzi un setup abbastanza veloce ma comodo comodo e comunque molto 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 intelligente a mio avviso quindi ragazzi iscrivetevi al canale mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video noi ci vediamo alla prossima ciao ciao